Ciao, sei sulla pagina Facebook Parole in Movimento, Claudia Squitieri. Ho pensato di condividere con te un racconto che ho scritto un po' di tempo fa, raccolto in questa raccolta, gioco di parole, racconti dell'appartamento, in tre cedizioni. Il racconto si intitola Il guscio. La protagonista è Sara, la cui storia si distribuisce nell'arco di una settimana. Associato a questo video ogni giorno avrai la pagina del racconto di Sara, se vuoi seguimi. Alla prossima!